Il Comune deve scegliere se difendere il sociale o la fondazione teatro. Così il responsabile della CISL di Fano Giovanelli, che questa mattina ha illustrato i dati sulla situazione reddituale dei pensionati. Da questi elementi emerge che aumentano i problemi sociali. A Fano sono oltre 10.000 i pensionati, un numero importante se si pensa che la popolazione totale è di circa 61.000 abitanti. L'importo medio della pensione è di 1.036 euro, ma in aggiunta ci sono 775 persone che vivono con l'assegno sociale per un importo medio mensile di circa 400 euro. Non ci scandalizziamo, se poi un anziano che dovrebbe pagare 80 euro di ticket per un'analisi del sangue, ha detto Giovanelli, preferisce spendere quei soldi per pagare una bolletta. C'è una fascia considerevole di persone anziane che non riescono a soddisfare con il loro reddito da pensione le esigenze quotidiane e ordinarie della vita. Per cui molti anziani con questa situazione reddituale bassa rinunciano anche alla cura, tenendo conto poi che molti anziani hanno preso in carico magari o il nipote disoccupato, sostengono il proprio figlio, per cui fanno un po' anche da sostegno alla situazione di crisi. La CISL ha incontrato l'amministrazione comunale di Fano per chiedere di ridurre la tasia agli anziani e pare che la giunta sia favorevole alla proposta dopo le festività pasquali. Inoltre partirà una raccolta firme a livello nazionale con l'obiettivo di presentare un progetto di legge e di iniziativa popolare che possa spingere il governo ad adottare una riforma del sistema fiscale più equo e giusto. Tra queste richieste l'introduzione di un bonus di 1000 euro, un nuovo assegno familiare, fermare l'aumento delle imposte e delle tasse locali e la lotta all'evasione fiscale. Noi da dopo Pasqua partiremo con la raccolta delle firme in tutti i comuni e poi mano a mano che organizziamo la raccolta di firme nei vari mercati li comunichiamo, comincieremo da Fano, Fossombruno e Pergola, la Valle Metaura e Val Cesano. Le pensioni di vecchiaia non vengono adeguate da ben 10 anni, ha fatto notare il responsabile CISL, specificando che gli anziani non hanno ricevuto nemmeno gli 80 euro distribuiti dal governo Renzi. Quello che noi chiediamo è di salvaguardare i servizi sociali, quindi di fare in modo che si dia un aiuto, almeno a quelli che sono in una situazione di bisogno, salvaguardando i servizi minimi per poter andare avanti. Giuseppina De Tommaso, del patronato CISL, ha rilevato invece un aumento delle richieste di invalidità civile. Le persone che hanno ottenuto riconoscimento sono oltre 3.500 per un importo medio mensile di circa 435 euro. Frequentemente per la famiglia, quindi per affrontare tutta l'assistenza e le spese sanitarie, presentiamo diverse pratiche di indenità, di accompagnamento di invalidità civile. Abbiamo riscontrato in questi ultimi periodi un aumento di oltre il 15-20%. La famiglia si ritrova spesso ad affrontare spese. L'importo della pensione ormai sappiamo che da tanti anni non ci sono rivalutazioni, quindi ci troviamo di fronte a dei nuovi poveri, a delle nuove povertà. La richiesta che viene fatta spesso però non viene accettata dalle commissioni dell'azienda sanitaria.